Se guardi i quadri di Jong Ilim ti perdi e non sai esattamente dove, forse all'interno di un giardino segreto, in un angolo nascosto o su un prato fiorito, circondato da una miriade di corolle odorose, così magnifiche da sembrare un ricercato ricamo o un collie di pietre preziose, eppure così vive dall'intenso profumo. I fiori che sbocciano dalle sue tele sono il frutto di magistrali pennellate, di un lungo processo contemplativo, nascono dalla riflessione e dallo studio, dallo sguardo e dall'ascolto. Se guardi i fiori di Jong Ilim ti perdi, ma in quel momento, proprio nell'istante in cui ti sei perso, ti accorgi di aver scoperto l'essenza della vita stessa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.